Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Allora, questo è un video diverso perché è un video tag. Sono stata taggata e nominata da Ali. Ali è una ragazza speciale al mio cuore. Ci siamo conosciuti da poco, però è come se ci conoscessimo da tanto tempo. Lei mi ha nominato, per me è un onore e vi consiglio di andarla a vedere nel suo canale. Lei si chiama AliFamily, poi vi scrivo qui sotto il nome esatto. Allora, in questo tag cosa consiste? Consiste in dieci domande che mi fanno, che io leggerò e io risponderò per conoscermi meglio. Quindi iniziamo e iniziamo con la prima domanda. La prima domanda, quando sei nato? Io sono nata il 13 aprile del 1989, quindi ho 32 anni. La seconda domanda, chi ti ha invogliato ad aprire un canale YouTube o è stata tua l'idea? Allora ragazze, naturalmente l'idea appunto è stata mia, però voglio dire, io stra amo YouTube da quando? Da un bel po' di anni e direi forse negli ultimi tre anni mi sono dedicata tanto a YouTube, nel senso che ho conosciuto questi video di motivazione, di pulizie, svuota la spesa e così via un po' quello che tratta comunque il mio canale. E me ne sono innamorata e quindi per me YouTube è nel mio cuore. E quindi di tanta ispirazione che ho visto di tante ragazze, di tanti canali che io appunto guardo, è nata questa cosa nel mio cuore, ci ho provato e adesso ho aperto il mio canale. Quindi sì, è una mia idea, però ho preso tanta ispirazione. Terza domanda, qual è il difetto più brutto? E allora, non penso che ce ne sia uno, ma penso che magari anche più di uno, però magari lascio dirlo agli altri. E allora, scherzo naturalmente. Allora, un mio difetto più che altro, allora, magari sinceramente mi dà proprio fastidio quando sento una persona che mangia, che mastica, che fa dei rumori strani, lo so, è una cosa strana. Questo fastidio si chiama misfonia, se non mi sbaglio. Però proprio questa cosa mi porta a essere molto nervosa, quindi vi faccio l'esempio. Se qualcuno, accanto a me, senza saperlo, sta mangiando in maniera strana e fa dei rumori, io divento troppo irritabile, troppo nervosa e magari se mi sta chiedendo qualcosa io rispondo in maniera un po' arrabbiata, perché proprio è una cosa che mi fa male, mi dà proprio fastidio e quindi penso che è un difetto per me. Perché può dare fastidio. Ok, quarta domanda. Come sei vestito adesso? E allora, semplicemente con una tuta, una felpa. Appunto, è la tuta. Sapete che a casa io bisogna stare comoda. Siamo alla quinta domanda. Cambieresti qualcosa del tuo aspetto fisico? Allora, no, non cambierei niente del mio aspetto fisico. Mi piaccio così come sono, però sinceramente vorrei perdere un po' di peso. Sono sincera, perché il mio peso non è questo che ho ora. Naturalmente con due gravidanze ho preso un po' di chiletti. E quindi l'unico mio desiderio è questo, cambiare soltanto perdendo un po' di peso, ma non cambierei niente. Sesta domanda. Che panino preferisci al McDonald's? Allora, non so dirvi il nome, non so come si chiama, non ci ho mai fatto caso. Però di solito prendo quello con il pollo croccante, dove c'è il pomodoro e la lattuga. Più che altro questo di qua. Non so come si chiama, ma lo farete sapere voi se l'avete capito. Sesta domanda. No, scusate, settima domanda. Qual è l'ultima cosa che hai comprato? Allora, l'ultima cosa che ho comprato è riguarda, come sempre, alla casa. Quindi ho preso le palline di Natale, Natalizia, Maison du Monde. Ok, ottava domanda. Qual è il tuo film preferito? Allora, anche in questo vi voglio dire che io sono amante dei film, quindi da sempre, sin da piccola. Io ho guardato un sacco, tantissimo film. Quindi non posso dirvi qual è il mio preferito, perché ce ne sono veramente tanti. Però vi posso dire il mio genere preferito. Sono i thriller, scusate. Quelli suspense. Quindi se vi devo elencare qualche film, vi posso dire tutti i film di Johnny Depp. Questi non sono thriller, però che mi piacciono. Film Resident Evil, Silent Hill. Sì, lo so, sono un po' strana. Però questi sono i film che più mi hanno colpito e che più mi piacciono e mi catturano. Allora, nona domanda. Quale telefilm, serie tv segui o seguivi? Allora, io ho seguito Prison Break. Mi è piaciuto tantissimo. E poi, l'ultima serie che ho seguito è Lost, che secondo me è uno dei migliori. Mi è piaciuto tantissimo Lost. Ultima domanda. Qual è il tuo attore preferito? E qual è l'attrice più bella? Allora, come attore preferito? Io ho in assoluto Johnny Depp e The Rock, Diane Johnson, il nome d'arte è The Rock. Questi sono i miei attori preferiti. Invece per me, come attrice più bella, ce ne sono un bel po', però se devo dire proprio bella, bella. Mi piace tanto Megan Fox o anche Jessica Alba. Mi piacciono tantissimo. Ok, ragazze, le domande sono finite qui. Spero che vi ho dato, come dire, un po' di spunto di come io sono. Se avete altre domande, anche voi ragazze, che volete sapere, volete farmi, dedicherò un video apposta con tutte le vostre domande. Ok, ragazze, adesso è arrivato il momento che io devo nominare altre tre ragazze e taggarle. E subito mi viene in mente il canale di Pierre. Ciao Pierre. Allora, Pierre è un ragazzo veramente dolcissimo. Quando parla ti cattura, ti fa stare attento nel video. E mi piace per la sua energia, il suo voler fare. Una persona che si mette gli obiettivi davanti e li realizza. E quindi mi farebbe piacere taggarti, nominarti e vederti in questo video per conoscerti ancora di più. Quindi Pierre, il suo nome del canale si chiama Welcome. Poi ve lo scrivo sempre qui sotto. Poi un altro nome che voglio fare è Carmen Petrini. Ciao cara. Anche lei è una ragazza dolcissima. Anche lei quando parla rimani lì, è incantata a guardarla. Per tutte le novità che porta. E quindi vi invito anche a vederla. E soprattutto ti taggo e ti nomino. Per ultimo, e non perché meno importante, voglio taggare la mia carissima amica Chiara Suward. Spero che l'ho detto bene, che io l'inglese ne sappia tanto. Vabbè. È Chiara. Questa ragazza è entrata subito nel mio cuore. Anche lei è super dolcissima. Lei ha la passione e lo fa come lavoro sul make-up. Siccome anche per me è una mia passione il make-up, anche se non lo condivido su YouTube e lo sto dedicando a un'altra cosa, però rimane la mia passione più grande. Come vedete io sono sempre, quasi sempre truccata perché io amo questo mondo e quindi amo vedere i suoi video. Quindi nomino te, cara mia. E niente ragazze. Questo video finisce qui. Spero veramente che vi è fatto piacere. Io vi voglio dare un abbraccio, un saluto e ancora un saluto alla mia amica carissima Ali. Grazie Ali.